Eccoci qui per il day after di Potoclimt Roma, finita con il risultato di 2 a 1 per la scuola norvegese, siamo qui per analizzare un attimo col binocolo quello che è stato alla partita perché ieri era francamente impossibile trattenere le mie delusioni e quindi direi di parlarne qui nel day after e soprattutto basarmi sulla conferenza post partita di José Mourinho dove secondo me ha espresso parole pesanti ma che ovviamente tutti noi romanisti speriamo che si avverino. Prima di iniziare, non è diciamo quello che vi... anzi, prima di iniziare ricordiamo un attimo che in tre partite la Roma contro il Potoclimt ha subito 10 gol, 10, 10, facendone 4, 2 sconfitte, è una vittoria, è un parigio ecco. Allora, iscrivetevi al canale, cosa importantissima, attivate la campanella per rimanere i giornali su tutti i prossimi contenuti che escono ogni giorno sul canale costantemente e lasciate un bel like non appena vi arriverà la notifica facendomi sapere la vostra qua sotto con un commento. Allora, appunto partiamo dalle parole di Mourinho che ovviamente ha parlato degli infortuni di Mancini che è grave, dopo arriveranno le analisi però sembra molto addirittura grave e in bocca al lupo, in bocca al lupo. Si parla del ginocchio e quindi ovviamente ci possono stare mille casi uniti tra di loro, potrebbe essere il crociato, potrebbe essere qualunque cosa veramente, speriamo che non lo sia per lui, no? E poi la domanda del giornalista dove chiede se c'è fiducia per il match di ritorno, no? Che si giocherà la settimana prossima dallo Stato Olimpico, sold out 65.000 spettatori. Mourinho ha detto La vinciamo, siamo in semifinale. E allora queste sono parole veramente pesanti perché io ora mi aspetto, io penso come un iromanista, che la vinciamo realmente perché te mi hai assicurato praticamente il passaggio del turno. Ed è una mentalità che comunque può essere positiva, però attenzione a non sottovalutare il bodo perché ha dimostrato di avere più fame. Io non voglio sentire che tecnicamente sono superiori, tatticamente, perché non è possibile. Solamente Rui Patrizio vale più di tutta la loro squadra, non di titolari, ma del valore complessivo dell'organico del Boto Glimt, a cui ieri mancavano anche dei giocatori fondamentali e il capocannoriere tra tutti. Quindi parliamoci chiaro, non possiamo attaccarci a questo. La Roma non ha avuto stimoli per giocare la partita di ieri, ma ora l'Olimpico, che sarà una bolgia, vogliamo spaccarli. Vogliamo spaccarli e demolirli. Quindi mi raccomando, andiamoci con la testa giusta, andiamoci con la testa giusta e prendiamoci queste semifinali di conference che vogliono dire tanto sia a livello economico e questa coppa può dire tanto a noi tifosi che non vediamo alzare un trofeo dal 2008, francamente. Quindi dagli ragazzi, dagli, dagli, dagli Roma. Sono totalmente ancora incazzato per la partita di ieri, forse anche di più, ve lo giuro. Stamattina mi sono svegliato con un nervoso incredibile. Però devo dire che dopo le parole di Mourinho mi sono un po' rassenerato. Questo è. Allora, ieri, come vogliamo che è andata la partita, allora, la Roma ha giocato solamente 20 minuti dei 90 disputati realmente in campo e non è ammistibile perché c'erano praticamente tutti i titolari. Ieri ha sbagliato anche lo stesso Mourinho perché da quel punto del match non mi puoi mettere dentro Vigna che ha fatto più disastri che altro. Ha fatto più disastri che altro. Ha tolto Mkhitaryan che era stato il migliore fino allora. Zalewski che comunque non aveva fatto cazzate. È quello che io vi dico, non aveva fatto cazzate. E quindi a quel punto non ha senso toglierlo. Perché è anche un giocatore che sta imparando la fase dimensiva. È sicuramente più offensivo di Vigna. Ma che è una spaventapasseri. Solamente che non sa neanche spaventare. Quello è il problema. È una cazzo di sedia. Vigna non lo voglio più vedere a Roma. E capisco che ci abbiamo speso 13 milioni. Però non ha senso proprio il cambio che ha fatto Mourinho. Poi Sciomuro dove non ne parliamo tornasse in Uzbekistan. Perché è una pippa di merda. Cioè più che stare lì inchiodato davanti non sa fare altro. Non sa aiutare la squadra. Io non capisco come il Genoa sia riuscito ad incassare così tanto da questo calciatore. Veramente chapeau per loro. Ma tanto siamo solo noi unici. Ad essere andati dietro a questa trattativa. E vabbè. Vigna è un giocatore di merda proprio. Concede il fallo. Che ovviamente ha deciso il gol del 2-1 allo novantesimo a scoccare. E l'ha pure deviata lui. L'ha pure deviata lui. Incredibile. Incredibile proprio. Poi il primo gol pure. Cioè è stata botta di culo. Deviazione. Poi Rupatrizio che sbaglia. Questi sono errori dei singoli ragazzi. Ma francamente il Bodo Klimt ti ha messo sotto. Perché quando a fine primo tempo è in vantaggio 1-0. Comunque con un bel gol. Ma non è che ha meritato. Perché il Bodo dopo i primi 20 minuti. È vero. Ha un po' rallentato. La Roma ha preso campo. Ma i primi 20 sono stati totalmente a favore della scuola norvegese. E poi quando hai subito il gol del 1-1. Al posto di essere. Dimostrare di essere una grande squadra. E quindi di prenderti qua dentro. Ti sei ancora di più. Demolito. Ti sei abbassato. Come se andasse bene il pari. Il Bodo Klimt ha alzato l'intensità. Vedendo come noi ci siamo abbassati. Ai loro. Ai loro. Ai loro. Come dire. Ai loro stessi valori. Perché te hai giocato da Bodo Klimt. Hai giocato da Bodo Klimt. Che ieri ha dimostrato di essere superiore a te. Perché francamente è stato così. E te l'hanno fatto un altro. Perché ci hanno creduto fino all'ultimo. Fino all'ultimo. Perché non prendono gli stipendi che voi percepite l'anno. Una roba incredibile. Da radiare vanti a Svigna. Da radiare Vigna. Ripatrice ha sbagliato. Ma non capisco come sia possibile che sbagliano tutti quando giocano con il Bodo Klimt. Poi vabbè Mancini complessivamente non ha fatto una brutta prestazione. Parliamoci chiaro. Comunque qualche aspetto positivo c'è stato. Il gol nasce da una bellissima azione. Abramo ieri un po' opaco. Perché comunque gli capito un'occasione davanti alla porta dove lui si gira. Al top. Ma poi non mi puoi sbagliare da lì. Perché lì qualsiasi attaccante riesce a buttarla dentro. Una magia comunque del genere. Quindi ieri proprio il collettivo è andato male. C'è poco da fare. Ora dobbiamo andare allo stadio olimpico e rompergli il culo. Rompergli il culo. E con questo non aggiungo altro. Perché già ieri è l'occasione di vendetta per quello successo ad ottobre. La prossima settimana lo sarà ancora di più. Lo sarà. E poi le prese per il culo non mancano. Perché già ieri abbiamo visto gli altri cantelloni del 6 a 1. E più ci prenderanno per il culo per questo. E invece noi gli facciamo vedere. Perché se dovessimo vincere andiamo ai quarti di finale. E li salutiamo. 6 a 1 abbiamo vinto i gironi. 2 a 1 siamo passati noi. Quindi veramente non avrebbero più nulla su cui basarsi a parlare. Quindi un'occasione importantissima. Anche per la stagione della Roma che si risulterebbe fallimentare. In caso di addio dalla conferenza ai quarti di finale col Voto Klimt. Perché era l'obiettivo primario di questa stagione. Non metteremo in discussione Mourinho. Perché è un progetto di tre anni. Però anche lui ha le sue colpe. Quando c'è uno da criticare va fatto. E anche Mourinho va criticato. Perché non è incriticabile. È comunque un tecnico che sicuramente non sta portando idea di giocare a Roma. Anche se qualche partita bellissima lo abbiamo fatta quest'anno. Però solamente carattere. Che alla fine si alterna anche. Perché ieri la Roma non ha avuto le palle di riprendere la partita. Per questo è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Sempre e comunque forza a Roma. Ma questi indegni non meritano di giocare a calcio. E soprattutto alla Roma. Vigna neanche la provinciale. Ciao.